Un altro episodio di violenza all'interno del tunnel che collega Piazza della Repubblica a Campo di Marte, ad Arezzo, dopo l'aggressione del 28 settembre quando un uomo colpì in pieno volto con un pugno una donna. Una settimana fa ancora vittima una donna nigeriana, stavolta per mano però del suo ex compagno, un connazionale richiedente asilo. L'uomo di soprannome Romeo aveva contattato la sua ex compagna fissando con una scusa un appuntamento intorno alle 18 proprio all'ingresso del sottopassaggio della stazione. La donna, operatrice stagionale nel settore agricolo in regola con il permesso di soggiorno, aveva accettato. Una volta uno di fronte all'altro, l'uomo ha prima aggredito verbalmente la donna, poi ha iniziato a strattonarla nel tentativo di afferrarle la borsa. Il nigeriano pretendeva la restituzione di due telefoni cellulari che avrebbe nel tempo regalato alla ex compagna. Nella collutazione la donna è caduta a terra con l'ex fidanzato che ha continuato ad aggredirla fino a quando non è intervenuto il personale della polizia ferroviaria. La giovane è stata a soccorsa dal 118, il suo aggressore rintracciato grazie alle immagini delle telecamere di videocontrollo e denunciato per tentata rapina.